Accordo trovato. Il mercato settimanale delle merci varie a Barletta può ripartire. Dopo due settimane di stop causate dalla posizione degli ambulanti che non hanno accettato la soluzione dell'alternanza, ovvero l'utilizzo di 143 stalli su circa 300 disponibili, si potrà ripartire sabato con l'utilizzo di tutti gli stalli. Decisivo per arrivare ad un accordo l'intervento del prefetto Maurizio Valiante. Il tavolo in prefettura, da lui convocato, ha tracciato la strada verso l'accordo tra amministrazione ed associazioni di categoria, poi ratificato nel pomeriggio a Palazzo di Città. A illustrare i dettagli dell'accordo il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito. Hanno accettato il criterio del sorteggio che noi abbiamo espletato in maniera pubblica, assolutamente trasparente. Abbiamo sorteggiato chi deve rimanere nell'area precedente, nell'area del vecchio mercato, del mercato precedente dal Covid e quindi chi non è stato sorteggiato viene spostato sull'area di via Papa Giovanni XXIII. Hanno accettato il criterio di spostarsi su un luogo che prima non era area mercatale. L'amministrazione comunale da parte sua propone talunne soluzioni, quella per esempio di chiudere il traffico sotto via Pertini per circa sei ore, consentendo però l'accesso pedonale al mercato, per evitare che il quartiere di Settefrati venga stromesso dalle attività mercatali. Soddisfatto dell'accordo trovato anche l'assessore delle attività produttive e vicesindaco di Barletta, Marcello Lanotte. L'accordo è stato trovato e peraltro una simpatica considerazione è che l'accordo rispecchia la primissima proposta fatta dall'amministrazione comunale. Probabilmente se da parte di tanti non si fosse soffiato sul fuoco qualcuno non avrebbe perso due settimane di mercato. Però è tutto bene ciò che finisce bene. Siamo contenti che i mercatali in ogni rappresentanza sindacale di categoria sono soddisfatti e auspichiamo che la gente di Barletta ritorni ad acquistare nel mercato e che i commercianti ritornino a mettersi in carreggiata. Tra le associazioni maggiormente attive nel rivendicare la possibilità di apertura totale del mercato c'è stata senza dubbio Casambulanti che plaude alla positiva soluzione della vicenda. Ci auguriamo che sabato riparte il mercato con tutta la buona volontà da parte nostra e da parte dell'amministrazione. Noi ringraziamo l'amministrazione anche della buona volontà. Non dire altro che speriamo che ce la mandi buona. Chi invece aveva accettato anche la soluzione dell'alternanza è Confcommercio. Il presidente della sezione di Barletta Francesco Di Venuto, pur non nascondendo il proprio rammarico per le due settimane di stop, plaude alla soluzione finale. Grazie alla concertazione fatta con le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercendi, Federcommercio, altri sono entrati successivamente per mera protesta. Si vogliono prendere dei meriti ma a noi non si interessa che si prendano dei meriti. A noi interessa soltanto dare opportunità, la possibilità alle famiglie di riprendere a lavorare, di riprendere a produrre reddito. Grazie a tutti.